C'è una storia, signori, che rimarrà scolpita nel tempo per il programma C'è posta per te. Partiamo dal presupposto che nonostante ci fosse stata la finale del Festival di Sanremo, Maria De Filippi, per forza di cose, è andata comunque in onda. È andata in onda con il suo solito, ovvero storie emozionanti, storie difficili, storie piene di litigi, incompressioni, scontri, chi più ne ha più ne metta, che la conduttrice cerca sempre di, possibilmente, far rientrare. Ma come, ad esempio, la storia che rimane segnata nel tempo del giovane Leonardo e del nonno Alberto. I due, che prima avevano un rapporto molto stretto, hanno avuto una discussione e da maggio scorso non si rivolgono più la parola. Leonardo soffre molto per questa rottura e ha chiamato Maria per poter riallacciare il legame con il nonno. La lite ha coinvolto anche il papà del ragazzo con il quale il giovane ha avuto una discussione degenerata in uno scontro fisico. Leonardo ha chiamato il nonno, ma quest'ultimo ha dato ragione al papà minacciando di chiamare i carabinieri. I due, che prima avevano un rapporto molto stretto, hanno avuto una discussione e da maggio scorso non si rivolgono più la parola. Leonardo soffre molto per questa rottura e ha chiamato Maria per poter riallacciare il legame con il nonno. La lite ha coinvolto anche il papà del ragazzo con il quale il giovane ha avuto una discussione degenerata in uno scontro fisico. Leonardo ha chiamato il nonno, ma quest'ultimo ha dato ragione al papà minacciando di chiamare i carabinieri. Ho detto delle cose veramente brutte e per questo ti chiedo scusa, ha detto Leonardo a nonno Alberto. Non posso tornare indietro per cancellare quello che ho fatto, vorrei che non fosse mai successo, ti chiedo scusa. Vorrei capire cosa devo fare per tornare come eravamo prima. Ti posso chiedere scusa e promettere che non succederà mai più. Anche con papà, non alzerò più un dito in vita mia. Mi manchi, ti voglio tanto bene, nonno. Nonno Alberto ha risposto così. Quelle offese mi hanno fatto male. L'ho visto nascere, l'ho cresciuto, l'ho accompagnato a scuola. Deve farmi vedere che cambia nel vero senso della parola. Leonardo gli promette che non ripeterà mai più gli stessi errori e così il nonno apre la busta e i due si abbracciano come non facevano da mesi. Non mi permetterò mai più di fare quello che ho fatto, è una cosa sbagliatissima alle parole del giovane con papà stiamo recuperando. Dopo quella situazione sono stato un'ora a piangere, volevo andarmene di casa.